e ciao a tutti ragazzi oggi ci sono 4 gradi e 6 sono le 10 e un quarto in camera abbiamo 18 gradi e mezzo andiamo ad accendere il pannello manualmente giro il termostato finché non fa tic il pannello si attiva diamogli due minuti di riscaldamento del condotto e andiamo a misurare la temperatura e vabbè siamo arrivati a 33 gradi superati e fuori ricordo che ne abbiamo poco più di 4 per chiunque dica ancora che è inutile ci fare un pensierino e qua ragazzi abbiamo il nuovo pannello solare ad aria calda o stufa solare o convettore solare che mi ha inviato direttamente la marca che li produce dopo aver visto il mio video questa volta però mi ha inviato lo stesso modello ma col termostato lcd questo modello ha anche una valvola che si apre si chiude per non fare entrare l'aria direttamente in casa visto che molti di voi me l'hanno chiesto questo appena ne avrò la possibilità andrà a tappare il buco che c'è per il gas perché ho ancora i fornelli a gas e quando metterò l'induzione potrò tapparlo con questo pannello quindi ragazzi iscrivetevi al canale non perdetevi i prossimi contenuti e ci vediamo nei prossimi video a